bello a tutti e grazie a tutti i miei video sono Matteciani44 e oggi siamo su un video per farvi vedere come aggiungere la copertina ai video di youtube come prima cosa andate sul play store, scrivete youtube studio, vabbè scrivete youtube, lo scrivete youtube studio lo installate, poi apritelo comunque per dirvi comunque raga, dovete prima registrare il video e poi mettere la copertina quindi registrare il video, andare su youtube studio per mettere il video che volete modificare andare in alto a destra dove c'è la matita modifica a miniatura in basso su modifica poi dovete schiacciare l'immagine che volete fare per esempio io sto facendo quella che avevo prima qua vi fa vedere come la volete mettere io per esempio la metto così andare su seleziona queste cose non l'abbiamo visto fare su salva salvataggio e modifica dopodichè se volete vedere che ci ha funzionato andare su youtube perchè sto qua ma che beh eh vabbè andate su youtube sul vostro canale aggiornate direttamente la immagina se non me la fa vedere dovreste avere l'immagine che avete messo per il mio primissimo tutorial 3 like vabbè arriviamo a 3 like per questo video se il video vi è piaciuto vi invito lasciate un commento mi piace iscrivetevi attivate la coppina è tutto ciao raga ciao